Deve saltare fuori Renzi a un certo punto nella discussione, di pazienza, ovviamente io ti ho conosciuto ai tempi di Renzi, politicamente diciamo, io ti ho conosciuto proprio mentre eravate alla Leopolda a Siena, ancora me lo ricordo, che mi sembra ieri, che è parte del fatto di essere vecchio. Sì, ok, salute. Banalmente è sembrato che lentamente il tuo distacco dal Partito Democratico, su quale io ho un sacco di cose da dire, magari poi le diciamo, la cosa principale è che si è avvenuto per questioni che non erano così sentite nel paese. Alla fine la rottura, tu l'hai avuta principalmente sull'Italicum, no? No. Su cosa, che cosa è stato il momento di rottura? Questa no. Allora. Questa no. Intanto per esempio, ecco, guarda, l'esempio della prima Leopolda è perfetto, perché la prima Leopolda, che io rivendico ancora, nonostante poi con Renzi non abbiamo più trovato la sintonia, diciamo, era un momento in cui c'era la ciccia, cioè il tema era, il PD, il centrosinistra, era all'opposizione di Berlusconi, voleva fare un governo con Casini, stava cercando, poi finì con Monti, no? Poco dopo. C'erano sempre quelli che ci sono anche adesso, più o meno. Assolutamente. C'era un dibattito tutto involuto, non si riusciva a uscire da questo guscio, eccetera, eccetera. Noi proponevamo, almeno per quanto mi riguarda, un percorso che tenesse insieme anche persone diverse, perché i verenzi eravamo già diversi allora, non è che non lo sapessimo, insomma. Venivamo da due traiettorie diverse che potessero ricostruire questo campo in cui stavano quelli un po' più moderati, quelli un po' più radicali, tra virgolette, adesso lo semplifichiamo. Che però era l'obiettivo del PD questo. Esatto, ma di farlo davvero, perché il tema era, il PD l'aveva fatto ma non ci aveva creduto la nostra critica di allora. Noi ci provavamo anche perché avevamo 30 anni e ci si prova. Dopodiché questa cosa lui l'ha piegata tutta in una, lui l'ha voluta piegare nel senso che dicevamo prima, cioè il leader, il suo gruppo di spinta, tutti d'accordo, se non ci deve essere nessuno che dice scusami, secondo me questa è una pirlata, no, boh, dritti come i fusi. E secondo me questo è stato il suo errore poi, perché lo sta rifacendo, cioè lui adesso tornerà centrale ma in un modo sempre pesantemente dialettico con tutti gli altri, che poi a un certo punto uno non lo sopporta più, questa è la mia teoria psicologica. Comunque... La tua proiezione è comunque che lui tornerà, scusa se ci interrompo. Certo, è già tornato perché gli altri sono fermi come dei cancelli, come diceva Rigosacchi e lui è veloce. Comunque, molto veloce, anche troppo veloce, talmente veloce che si impapina, si incarta da solo. Cosa mi chiedevi? La tua rottura. Il distacco con me ci ha avuto due cose fondamentali. La prima è di senso, le due cose su cui abbiamo litigato di più sono il Jobs Act, quindi i diritti del lavoro e quello che dicevo all'inizio della trasmissione della podcast. E l'altra cosa era lo sblocca Italia, perché sono tutti Greta Thunberg, l'ambientalismo, ma lo sblocca Italia era una roba, se vuoi ne parliamo tutta la notte, andiamo avanti, perché era pieno di… Sì, guarda che li riassumi. Però, diciamo, lavoro e ambiente sono stati i luoghi su cui abbiamo litigato. E poi c'era un'altra questione, per quello che diventerà centrale Renzi, perché adesso lo potrà fare senza rompere le scatole a quelli come me. Cioè, lui voleva prendere i voti di Forza Italia, semplifico. Già quando era a Palazzo Chigi, già prima… Già quando eravate assieme ancora? No, beh, quando facevamo la Leopold eravamo all'inizio. Ah, ok, dici un po' dopo. Quando lui è arrivato a Palazzo Chigi, peraltro in modo truculento, perché facevano fuori il povero Letta, come quella giraffa di Copenaghen, la Paragonammo, quella storia della giraffina dello zoo di Copenaghen, detto questo, lui arriva lì e inizia a fare tutte cose che piacciono a quell'elettorato, pensando di ingrandirsi tipo Napoleone Bonaparte e di tenere la propria parte sedata, perché io non so come si facciano a votare certe cose, infatti non le votai, poi a un certo punto quando accumuli 10 non votazioni vai via, perché non è che non puoi votare mai, perché vuol dire che hai un problema tuo, ce l'hanno loro, insomma uno dei due deve prendere anche la decisione. Comunque, lui fece la cosa sulla prima casa, che adesso è anche questa qua, una forza di sinistra che toglie le tasse a quelli che le possono pagare, in un momento in cui ci sono quelli che vanno via, perché non c'è lavoro, perché non c'è eguaglianza in niente, cioè se io la tassa sulla casa la posso pagare, fammela pagare, piuttosto usa bene quei soldi, no, di la tassa sulla casa di Civati che è benestante, la mettiamo per finanziare la ricerca, l'alta ricerca pubblica, che ne so, sai che abbiamo un sacco di enti pubblici con i precari, mettiamo a posto, non so, dai delle finalità, però non togliermi le tasse a chi le può pagare, in un momento così, cioè forse in un momento di crescita, il 10% in cui ci arricchiamo ogni secondo io e te, stando qua, soltanto alla luce degli faretti. Ma quando parli di persone che le possono pagare, intendi tutti i possessori che hanno una casa? No, quelli che stanno bene, perché l'esenzione era già molto larga e poi c'erano strumenti per non farla pagare a chi non se la poteva permettere, ma quelli che stanno molto bene, perché non devono pagare le tasse, capisci che perché ovviamente sono anche quelli che fanno opinione, quelli che stanno molto bene, sono anche quelli che magari fanno i giornali, che fanno, che hanno le aziende, va tutto bene, però il problema è che non è che voglio sempre stare dalla parte dei deboli a tutti i costi, però se c'è un problema di disuguaglianza, tu intervieni a favore di chi è diseguale, chi è tagliato fuori, non a favore di chi è tagliato dentro, non so come dire. E ne ha fatte così un botto, peraltro sta rimverdendo battaglie sue, perché questa storia del contante, di cui hanno per dire cose che interviene, lui alzò la soglia a 3.000 euro, io mi ricordo che fece una litigata a furibonda con una persona di cui non faccio il nome, perché nel partito, che prima stava con me, poi hanno passato con Renzi, e gli dice, guarda, potete fare tutte le carriere del mondo e scegliere il leader che è più funzionale al vostro... Però, insomma, se tu non puoi essere contro la diffusione del contante sulla base di ragionevolissimi motivi, che sono la corruzione, il nero, la provenienza di capitali, il riciclamento, cioè possiamo fare un elenco, anche banalmente la sicurezza delle persone, perché se un giro con 3.000 euro e mi derubano qua fuori, non è divertente, no? Se ho una carta di credito la blocco e posso risalire anche a chi, no? Come è stata usata. Ma al di là di questo, non puoi aumentare da 1.000-3.000 euro il limite del contante. Cioè, è una mossa assurda, fatta perché... Cioè, io non... Adesso, siccome l'argomento è tornato, in questo paese si dice... Sì, sì, sì. Io non riesco a capire perché. Cioè, non è razionale. Tra l'altro, ti do un dato, ridurre il contante... Non riesco a capire perché? Significa che non vuoi dire quello che pensi? No, è che è una mossa per, come dire, lasciare una serie di zone grigie in questo paese perché sono più confortevoli che pagare le tasse, che fare... Però, per esempio, io che adesso ho un ASRL, e ho la fatturazione elettronica, cioè, boh, di cosa stiamo parlando? Cioè, io sono abituato, ho dei flussi, ho un database, un aggiornamento degli ordini, e anche se lo faccio vedere, è divertente. Sì, ce l'ho anche io. Ma poi sai che dicono, cioè, ti vai a lavorare, posso testimoniare, ho il computer, se volete, e vi faccio vedere come lavoriamo noi. Però è tutto tracciato.